Non esiste l'ipotesi di un governo Lega 5 Stelle perché moltissimi deputati della Lega, tutti quelli eletti nei collegi, sono deputati eletti anche con i voti di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, di Nuovi per l'Italia e quindi hanno un vincolo anche con questi elettori, quindi sono sicuro che un governo Lega 5 Stelle non ci sarà. Salterebbero i governi ragionari in qual caso? Non tocca a me dirlo, certamente si tratterebbe di una scelta che tradirebbe gli impegni presi, ma io credo che questo assolutamente non accadrà perché c'è un impegno sottoscritto, c'è un documento sottoscritto nel momento della formazione delle liste per cui nessuno né eletto con Forza Italia, né eletto con la Lega, né eletto con Fratelli d'Italia, né eletto con noi con l'Italia, avrebbe cambiato bandiera, avrebbe rotto l'alleanza. Quindi i patti sono sacri, i patti vanno rispettati, Forza Italia li sta rispettando per quanto riguarda i rapporti con la Lega e sono sicuro che anche la Lega li rispetterà. Violare questi patti sarebbe violare il rapporto con i cittadini, quindi credo che questo non avverrà, ne sono convinto e mi auguro che nessuno pensi a un'ipotesi del genere.